ciao ragazzi e ragazze qui dal vostro diabotex allora oggi allora innanzitutto risolto i problemi con il microfono adesso con il pc di funziona anche per fare gli unboxing ecco ci tenevo a dirvi questa cosa e poi non sono qui per un unboxing non sono qui per parlare di un gioco che ho acquistato non ricordo bene se mi è arrivato 20 giorni fa così via va bene comunque sto parlando parlando scusate di lego dimension ok adesso poi mi dite mi chiederete alcuni di voi magari già sapranno diabotex cosa è successo ve lo dico subito ragazzi cosa è successo come vedete oggi sono veramente molto incazzato i toni saranno veramente saranno veramente caldi i toni che userò oggi per il semplice motivo che semplice motivo tra virgolette ragazzi perché una motivazione dove veramente ieri 16 maggio che ho avuto questa notizia mi sono girati i coglioni cioè giustamente ragazzi io poi non uso mezzi termini perché su queste cose allora tengo a precisare che io parlo sia per me che per tutti i ragazzi ragazzi insomma persone che hanno acquistato questo gioco pagandolo giustamente più soldi perché facendo arrivare da fuori di importazione ragazzi costa di più ed è arrivato di importazione per il semplice motivo che questo gioco nel settembre 2015 è uscito in altri paesi tranne che da noi in italia dove c'era anche un comunicato ufficiale della warner bros italia perché io poi vi metterò anche la foto di un sito di un sito che ha riportato un sito ragazzi molto efficace su quello che dicono no stronzate ok ma vi riporterò tranquilli poi lo vedrete alla fine del video la foto che vi metterò dove attestavano che tramite un comunicato ufficiale warner bros italia aveva dichiarato che lego dimension non sarebbe stato distribuito in italia quindi giustamente ragazzi da amante di giochi della lego ho aspettato diciamo questi otto mesi così ho detto aspetto qualche mese perché poi magari tutto taceva ragazzi perché giustamente sia io che altre persone si sono presi il gioco in versione inglese perché c'era questo comunicato che diceva che il gioco non sarebbe stato mal distribuito in italia ok ieri 16 maggio leggo la notizia che lego dimension a settembre 2016 data ancora da destinarsi comunque settembre 2016 il gioco uscirà in italia dopo che lo scorso anno nel 2015 perché questo gioco è uscito a settembre 2015 negli altri paesi era stata era uscita questa notizia dove dicevano che il gioco non sarebbe uscito in italia non sarebbe stato distribuito in italia ok adesso io mi domando e dico ragazzi allora vi sembra giusto questa cosa che noi abbiamo tirato fuori giustamente più soldi perché essendo che il gioco è arrivato da fuori parlo per me e per tutti i ragazzi e ragazze che hanno acquistato il gioco non solo per me perché comunque come li ho tirati fuori io i soldi li hanno tirati fuori altre persone perché in base a quella notizia che era uscita l'anno scorso ragazzi perché se a me mi dicevano subito il gioco arriverà in italia con un anno di ritardo io avrei aspettato un anno ma se tu mi dici il gioco non verrà distribuito in italia io giustamente amo i giochi della lego cazzo e me lo faccio mandare da fuori ma se tu mi dici che il gioco mi esce dopo un anno io aspetto ma siccome non è stato detto questa cosa ma la notizia è uscita il 16 maggio 2016 e allora ragazzi adesso qui voglio vederci un attimino chiaro cioè nel senso che uno tira fuori i soldi per una versione in inglese tramite un comunicato che c'era stato non si sono specificati bene forse non lo so ma allora prima di fare un comunicato di questa importanza perché comunque i giochi della lego sono seguiti cazzo vogliamo chiarire bene le cose magari allora io adesso ho acquistato il gioco ragazzi il gioco è molto bello e vi chiedo allora vi sembra giusto a voi di questa mossa che adesso viene annunciato per l'italia mentre prima era stato detto che il gioco non sarebbe uscito in italia non sarebbe stato distribuito in italia cazzo allora io sono incazzato come una biscia ragazzi è inutile che ve lo nego questa cosa perché giustamente so di aver acquistato un ottimo prodotto però ora quello che vi chiedo voglio sapere da voi se la cosa vi sembra giusta ma tanto ragazzi è palese che la cosa non è giusta di come si sono comportati dal mio punto di vista perché giustamente è un mio diritto di parola esprimere il mio pensiero ragazzi visto che ho tirato fuori i soldi per una versione in inglese perché il gioco era stato chiaramente detto che non sarebbe stato distribuito in italia ok? se come io sono un vero videogiocatore non magari come fanno altri che fanno finta di amare i giochi e poi non se ne fregano un cazzo ma pensano solo ai soldi da quello che incassano io sono un vero amante di videogiochi perché gioco dall'età di 5 anni, 6 anni adesso ne ho 38 quindi queste cose ragazzi mi fanno incazzare allora molti di voi mi hanno detto che mi hanno chiesto Diablo ma non arriva il secondo gameplay di Lego Dimension? ok prima di portare il secondo gameplay e di continuare magari la serie io con voi voglio essere chiaro perché quello che dico lo rispetto ragazzi allora perché comunque voi mi seguite usate il vostro tempo e quindi è giusto che vi trattano il migliore dei modi perché comunque è così ragazzi io la penso in questo modo allora se volete che io continuo la serie di Lego Dimension giustamente in inglese perché ci tengo a ribadire che il gioco era stato confermato che non veniva distribuito in Italia ora si svegliano così una mattina e dicono verrà distribuito a settembre 2016 si fa il cambio di binario ragazzi al binario A si passa al binario B dal nulla così dopo che comunque le persone hanno tirato fuori soldi per acquistare la versione in inglese oggi ci ribatto sopra questa cazzo di scatola perché è così ragazzi allora quello che voglio dirvi adesso è questo io se sono fiero sono lieto di continuarvi questa bellissima serie però ho un presupposto ragazzi se volete io la serie la iniziate in inglese e la finisco in inglese perché dopo questa questa notizia mi sono veramente infastidito e vi assicuro perché ve lo assicuro ragazzi io non li tirerò fuori per per comprare la versione italiana del gioco perché se tu mi facevi un comunicato che mi dicevi il gioco usciva con un anno di ritardo in Italia se lo prendevo in inglese la colpa era mia perché giustamente tu mi avvisi che il gioco sarebbe arrivato con un anno di ritardo se lo prendevo in inglese giustamente erano cazzi miei che poi dovevo ritirare fuori i soldi però se leggo una notizia che dice il gioco non verrà distribuito in Italia e giustamente io dopo tutti i mesi ho aspettato ho comprato il gioco perché ho dovuto anche mettere soldi da parte ragazzi perché come vedete ho porto parecchi giochi lì sul canale quindi ho delle spese e ho voluto farvi questa sorpresa ragazzi perché comunque ci tengo a voi ed è un gioco valido l'ho studiato questo gioco insomma poi mi ritrovo dopo mesi fanno il cambio di binario che dicono adesso il gioco esce a settembre 2016 e no ragazzi mi dispiace ma a questo punto io non non vi faccio riprendere cioè io questa qui l'ho vista come una presa per il culo ragazzi adesso non so come la pensate voi ma io mi sento preso per il culo perché quindi se volete che continuo la serie di Lego Dimension ve la continuo in inglese perché comunque io il gioco in italiano per quanto può essere bello perché comunque è bello mi dispiace ragazzi ma non gli do altri soldi per ricomprare una stessa confezione con la lingua in italiano perché a giugno avrò molte spese con molti giochi da portare sul canale avrò molte spese anche nei prossimi mesi perché giustamente vi porterò sempre dei giochi anche un po' particolari anche alcuni commerciali ma anche alcuni particolari che gli altri non trattano quindi ragazzi la mia domanda le due risposte che voglio da voi è vi sembra giusto che dopo un comunicato che non sarebbe arrivato in Italia adesso arrivi in Italia secondo me non è giusto e ci tengo a precisare che non parlo solo per me ma anche per tutti quelli che hanno acquistato il gioco per altre persone e voglio sapere se per voi va bene se devo continuare la serie in inglese perché giustamente io la versione italiana ragazzi non la comprerò a prescindere non la comprerò perché mi sento preso in giro mi sento preso per il culo quindi essendo che così ragazzi io se continuo se volete che continuo si continua sulla versione in inglese altrimenti se volete aspettare la versione in italiano ragazzi spero che la farà qualcato youtuber perché io non la comprerò quindi questo è tutto ragazzi adesso dopo il video vi metto la foto di questa notizia dell'anno scorso che diceva che giocano un milione distribuiti in Italia e quindi ci sentiremo comunque con i prossimi gameplay unboxing e compagnia bella sempre in compagnia del vostro Diamotex ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce grazie per il supporto ciao ciao a tutti ciao a tutti .